che diventa sempre più faticoso comunicare la storia diventa sempre più faticoso perché è una situazione estremamente critica sicuramente voi tutti tra ieri e oggi avete letto il giornale e avete visto che ormai si parla apertamente di un inizio di una guerra guerreggiata ma una guerra guerreggiata tra due sistemi tra due sistemi geopolitici in cui l'europa è coinvolta in primissima persona abbiamo visto le dichiarazioni di stoltenberg abbiamo visto le dichiarazioni di del francese macron insomma ci siamo ci stiamo rendendo conto che effettivamente si sta andando là quindi comunicare la storia è difficile in questo contesto perché uno può avere anche l'impressione di parlare al vuoto ma parlare con centinaia comunque di persone non è il vuoto insomma vale la pena perché ognuno insomma il suo dovere lo deve pur fare comunicare la storia significa dare delle opportunità perché la storia è una risorsa una risorsa conoscitiva che oggi non può e non deve mancare e quindi questi quattro seminari che fanno parte del ciclo penso che saranno tutti dedicati a questo argomento a questa situazione difficile che sta vivendo il mondo che stiamo vivendo ovviamente tutti noi contemporanei bene abbiamo detto che il titolo è l'impero cadente lo sterminio silenzioso e il terrorismo di qui a domani bene incominciamo dall'impero cadente per dire che abbiamo visto proprio in questi giorni che ormai c'è un rifiuto totale un rifiuto assoluto a negoziare con la russia c'è una evidente incapacità di capire la gravità del momento e quindi siamo davanti all'incomprensione dei sistemi occidentali l'incomprensione dei modelli che arrivano dalle sedi religiose noi abbiamo visto anche il pontefice italiano ma non si tratta è chiaro che noi qui come dire sentiamo ascoltiamo più la voce insomma del nostro mondo religioso però dobbiamo tenere presente che in questo momento moltissime realtà religiose da tutte le parti del mondo si stanno mobilitando e sta avvenendo qualcosa che già è il segnale di una percezione che di qualcosa che sta arrivando e io vedo girando qua e là vedo che le chiese le parrocchie le chiese proprio fisicamente intese si stanno mobilitando sono le trovo aperte 24 ore al giorno cioè aprono e perché la gente si possa regare in questi luoghi di culto e per le loro preghiere per la pace proprio specificamente per la pace questo ci deve fare capire a chi ancora non l'abbia capito in che situazione siamo siamo nella situazione che non sappiamo ormai cosa succederà fra tre mesi fra sei mesi fra otto mesi quindi è chiaro che anche questa iniziativa di aprire le chiese al di là diciamo delle liturgie regolari appunto a un coinvolgimento delle persone che pregano per la pace io non sono ovviamente cattolico però dico che è già un atto estremamente estremamente importante quindi un momento difficile rifiuto a negoziare l'incomprensione di questi appelli e tutto questo è che cosa è cari amici è la prova più lampante e di un occidente che sta accadendo che sta accadendo ormai crollato moralmente crollato civilmente ma che sta accadendo anche nella realtà dei fatti cioè se non si rende conto cioè se questo sistema che è diciamo così il sistema dominante nel mondo nel nostro mondo in questo occidente non si rende conto di queste cose significa che effettivamente l'ora zero insomma sta arrivando e sta arrivando presto cioè si pensava io ho sempre pensato che poi alla fine insomma passeranno degli anni alla fine chissà ma qui vedo che ormai c'è in atto una grande fibrillazione e ormai le cose possono a questo punto possono scoppiare anche per caso ma la domanda che noi ci dobbiamo fare è perché non si vuole lasciare uno spazio uno spiraglio diciamo così alla trattativa che sia ovviamente una trattativa seria che sia non sia la trattativa che propone come dire il signor Zelensky capo del governo ucraino il quale dice che la trattativa è che dobbiamo accettarla noi senza la controparte la controparte deve semplicemente capitolare senza condizione eccetera ma è chiaro che queste parole possono venire da persone completamente impreparate sotto il profilo politico e non parliamo poi sotto il profilo geopolitico cioè le trattative si fanno tra le parti non si fanno da una parte e l'altra deve capitolare e poi come si può pensare che un paese come la Russia oggi possa capitolare nel momento in cui sta vincendo cioè questo una volta lo dicevamo noi lo dicevo io due anni fa un anno e mezzo fa un anno fa ora lo dicono tutti i giornali che la situazione è difficile perché ogni giorno i russi riescono a conquistare a conquistare nuovi territori del Donbass e soprattutto nella parte orientale quindi è un dato lo puoi negare fino a un certo punto tatticamente ma quando tu vedi che la situazione è quella e di fatti ormai i giornali continuano a fare propaganda ma su questo punto c'è poco da propagandare c'è poco da alterare c'è poco da occultare e da soprattutto falsificare perché ormai è tutto chiaro esistono come dire i documenti esistono le informazioni sul campo che parlano di questa avanzata eccetera quindi questo sarebbe il momento proprio per evitare altri grandi stragi perché quando si parla di avanzata ora uno può pensare anche può pensare così in realtà un'avanzata che ne so anche di 10 15 20 chilometri comporta centinaia o addirittura migliaia di morti non è un caso che i russi parlano già di parecchie centinaia di morti al giorno ma voglio dire conteggiano solo la parte del nemico non conteggiano la propria quindi sono praticamente grandi stragi che vengono fatte tutti i giorni e questo sarebbe il momento opportuno per fermare queste stragi e non lo si fa non lo si fa cioè non si vuole capire che in questo momento esistono delle generazioni le generazioni che vanno dai 20 ai 30 anni che sia russe sia ovviamente ucraine che si stanno perdendo e difatti noi sappiamo che in Ucraina addirittura ormai esistono diciamo mezzi strumenti molto pesanti per reclutare e mandare a fronte i ragazzi che non vogliono partire perché sanno che ormai il fronte le prime linee sono diventate delle vere e proprie macellerie e quindi di questo è chiaro che i morti di Gaza di cui parleremo dopo fanno una grande impressione ma non dobbiamo dimenticare che anche lì stanno morendo centinaia e centinaia di persone al giorno e allora perché viene rifiutata questa trattativa? e qui parleremo anche un po' di storia caro amico non si può parlare solo del presente si deve parlare delle cause, di come siamo arrivati a questo punto tanto diciamo così abominevole, tanto assurdo la trattativa viene rifiutata dal mondo atlantico per un motivo perché loro temono, cioè i sistemi che compongono diciamo così i governi e temono che questo può essere, può innescare, può essere il punto di rottura per una capitolazione, non c'entra ormai la guerra in Ucraina ma una capitolazione dell'Occidente come sistema guida e gendarme del mondo non sono parole ovviamente dette a caso e la realtà perché se noi sicuramente tutti leggono le riviste in questo periodo di geopolitica una delle più conosciute e senza dubbio l'IMES e beh vediamo cioè che è nato gli Stati Uniti quindi c'è questa grande struttura che è costituita dal Pentagono praticamente hanno risorse militari significa uomini e armamenti anche atomici diffusi in tutto il mondo è una realtà, il gendarme del mondo non è solo quello che ha fatto delle guerre assurde che hanno determinato negli ultimi 20-30 anni milioni e milioni di morte ma è quelli che hanno seminato anche armamenti hanno posizionato armamenti anche atomici e collegati anche con i sistemi satellitari in ogni parte del mondo e quindi non solo in tutta Europa ma anche in numerose parti asiatiche e così via quindi capiamo bene che questo ruolo di gendarme del mondo l'Europa atlantica e il mondo atlantico è la testa la guida che è costituita dagli Stati Uniti non vogliono correre questo rischio cioè di capitolare cioè loro vogliono restare i padroni del mondo e andare via dall'Afghanistan era consentito perché era l'Afghanistan cioè l'Afghanistan e quindi la resistenza di una popolazione che è durata praticamente quanto? 20 anni e alla fine questa resistenza ha vinto quindi è una cosa diversa qui si tratta invece di un mondo, di un sistema che non accetta che un altro sistema di cui ora noi parleremo perché io negli altri seminari ho parlato di molte cose però questo argomento, c'è l'argomento del sistema russo cosa rappresenta oggi la Russia cosa rappresenta soprattutto per l'Europa e cosa rappresenta per gli Stati Uniti per gli anglo-americani insomma questo lo dobbiamo specificare molto meglio perché vedete cari amici il problema Russia è oggi fondamentale è oggi fondamentale e se noi non cerchiamo di scavare di scandagliare su questo piano anche storicamente però con le idee chiare cioè cercando di definire alcuni punti che poi sono quelli che fanno la differenza cioè che fanno capire come stanno le cose di fatto noi ora vedremo anche delle immagini per questo mi sono dotato ci siamo dotati come laboratorio degli annali di storia di una piattaforma di una piattaforma nuova in streaming vediamo di usarla spero di riuscirci bene e quindi abbiamo qualcosa in più abbiamo una risorsa documentaria in più soprattutto importante proprio ai fini della storia la prima cosa che non si accetta è che la Russia sia rimasta nonostante tutto la prima potenza geoterritoriale del mondo che per molte versi si sottrae all'economia finanza mondiale all'economia finanziaria mondiale ora questa può sembrare una cosa però in realtà è un concetto nuovo è un concetto su cui io negli ultimi mesi ho lavorato perché si parla del sistema occidentale come il più potente degli Stati Uniti come prima potenza mondiale è la potenza gendarme del mondo perché ha distribuito in tutto il mondo tutti i suoi armamenti tutti i suoi arsenali e li abbiamo anche qui in Italia e così via però c'è una potenza superiore all'America che non è sul piano dell'atomica perché sul piano dell'atomica forse si pareggiano le cose anche perché lì in Russia ora esiste purtroppo e la cosa a me pacifista ovviamente non piace esiste una corsa al riarmo agli armamenti c'è anche in Europa tutti i paesi stanno parlando piani di riarmo e lì in Russia sono molto avanzati e non è detto che ormai sia la seconda del mondo sul piano atomico ma non è questo che a noi deve interessare noi non ci dobbiamo arrivare a quel livello là a quel punto là di mettere come dire in azione insomma il meccanismo premere i bottoni per far deflagrare la guerra mondiale noi a questo non ci dobbiamo arrivare dobbiamo capire che esiste come dire una visione anche delle cose che non riguarda gli armamenti noi dobbiamo parlare di questo cioè noi abbiamo la Russia che in realtà è la prima potenza geoterritoriale del mondo e io dico che non è la prima geopotenza territoriale del mondo da sei mesi o da tre anni o da quando c'è l'Unione Sovietica io dico che c'è che ne so dai tempi di Ivan IV che in occidente è stato chiamato Ivan il terribile che in realtà insomma è stato tradotto un po' male perché probabilmente il termine russo significava qualche altra cosa insomma forse temibile potente insomma comunque in ogni caso è stato tradotto cioè voglio dire è un sistema geoterritoriale che non ha è uguale non è uguale non è uguale perché è talmente esteso e come dire non la nazione sono le nazioni che messe insieme hanno costituito la prima potenza appunto del mondo sul piano geoterritoriale e qui per capire meglio forse bisognerebbe cogliere qualche spunto cioè io nel senso poi ho fatto dei rilievi mie personali ma bisognerebbe anche capire anche leggere ve lo suggerisco anche e di leggere qualcosa sulla storia sulla storia globale e qui ci sono anche gli scritti di di Pamela che è una che collabora con me al laboratorio eccetera comunque in ogni caso cioè noi abbiamo una realtà che è quella dell'economia mondo che vede a capo appunto gli Stati Uniti il sistema occidentale perché sono loro che ancora pensano di segnare il passo perché poi in realtà sappiamo che c'è la Cina ci sono altre realtà che si stanno portando avanti e quindi non è una realtà definitoria e definitiva cioè è una cosa che si va modificando e poi esistono i sistemi mondo che sono i mondi della tradizione gli imperi cioè gli imperi della tradizione ora non si accetta che la Russia abbia mantenuto questa potenza geoterritoriale la Russia da questo punto di vista rimane una specie di innesto che lo possiamo chiamare inventivo e qui non è inventivo un termine diciamo così elogiativo non c'entra niente di fatto lo metto mi piace metterlo tra virgolette comunque alternativo sempre tra virgolette quindi un innesto del passato paternalistico imperiale che fu degli zarre un innesto però nel presente poi vi ricordate leggendo la storia la storia degli imperi sui quali non tramontava mai il sole pensiamo ad esempio all'impero di Carlo V pensiamo all'impero di che ne so di Filippo II qui stiamo parlando della Spagna insomma del 500 e del 600 ma voglio dire anche l'impero romano l'impero can cinese che era coevo a quello romano ma possiamo parlare anche che ne so dell'impero mongolo di Genskan che arrivava dalla Cina praticamente quasi quasi ai Balcani con l'orda d'oro e quindi nei territori della Russia di Kiev noi sappiamo che esistono questi bene la Russia costituisce una specie di innesco di quel vecchio mondo di quella tradizione imperiale nel nuovo mondo che è quello appunto delle economie finanziarie che reggono le sorti del pianeta e questo non piace non piace perché ogni risorsa deve essere a uso e consumo di questo sistema al di là delle manovre su cui io non entro cioè qui è chiaro che sono altre discorse ma è un fatto che viene da sé esiste l'ottava parte diciamo della superficie terrestre terrestre non esclusa quell'acqua ovviamente che non può essere utilizzata perché c'è come dire un sistema paternalistico imperiale quindi non parlo della Russia di oggi la Russia di oggi non è un sistema paternalistico imperiale è una serie di repubbliche a carattere nell'insieme questa federazione è a carattere presidenziale c'è una presidenza un capo del governo c'è un parlamento la Duma alta il senato la Duma bassa insomma ci sono tutta una serie di cose che reggono esattamente sulla base dei principi occidentali della divisione dei poteri esiste una magistratura cioè queste sono cose che logicamente non le vedrete mai nella propaganda perché si parla di appunto lo zar l'autocrata ma in realtà da persone intelligenti quale un po' siamo tutti no? ci accorgiamo che sono sciocchezze perché in realtà insomma esiste esistono delle funzioni esistono dei ruoli esistono lo Stato le articolazioni dello Stato sono molto bene io quello che voglio dire quindi c'è questo innesco questo non piace non può piacere perché lì è una zona ma no ora non è un fatto di oggi questo è un fatto che ora come vedremo c'è stato sempre solo che oggi stiamo arrivando proprio alla catastrofe per questo motivo stiamo arrivando ma in ogni caso è stato qualcosa che già esisteva nel settecento e che già portamente esisteva nell'ottocento quando nasce e ora lo vedremo quella che noi possiamo chiamare la russofobia che non è una cosa recente non c'entra niente Putin lasciamolo perdere Putin che in questo discorso che qui non c'entra niente ora parleremo di questo e vedrete delle immagini che vi scioccheranno che lasciano quasi traumatizzate perché si capisce che tutto quello che stanno inventando ora è tutta propaganda cioè che praticamente non esiste niente di reale perché ora abbiamo come dire in quell'immagine noi ci accorgiamo qual è effettivamente la realtà quindi esiste questo innesto del passato che possiamo chiamare una tradizione una tradizione lunghissima che nel caso della Russia dura almeno dal Cinquecento appunto da quel da quello zar da quel Cesare insomma zar di tutte le russie proprio a mettere in rilievo che si tratta di etnie di popolazioni estremamente lontane diverse e quindi insomma siamo intorno al XVI secolo è una storia abbastanza lunga dal XVI secolo a oggi insomma siamo già quasi stiamo arrivando a 500 anni a mezzo millennio quindi esiste questa tradizione cioè questo innesto inventivo perché lo possiamo chiamare inventivo perché tutti i mondi si sono come dire poi ci sono realtà che invece hanno avuto un maggiore riguardo alla tradizione e non è che per questo noi gli mandiamo un'atomica perché loro sono più tradizionalisti non lo possiamo fare cioè se siamo persone civili se siamo persone veramente democratiche questo non si può fare ma non non si può fare con la Russia non si sarebbe dovuto fare con tanti paesi che invece sono stati sterminati non è che ci sono dubbi uno si alza una mattina noi siamo democratici perché sono tradizionalisti perché è un mondo vecchio perché cosa quella è una via un modo di percorrere quella che noi chiamiamo la modernità e anche che direi la contemporaneità che sono due cose ovviamente un tantino diverse perché di mezzo ci sono poi molti diversi secoli bene l'occidente questo io lo spiegherò meglio e vi prego di seguirmi anche guardando appunto queste immagini che vi farò vedere l'occidente praticamente questa realtà non l'accetta non l'ha mai accettata non è una storia che incomincia con Putin sarebbe quasi tranquillizzante se fosse una storia di ora perché diremmo togliamo Putin e alla fine si risolve tutto non è così è una stupidità questa è un qualcosa che non sta né in giro né in terra non c'entra Putin ma non c'entra nessuno cioè il mondo la strutturazione di quel mondo quelle repubbliche che sono unite attraverso un patto attraverso un contratto se vogliamo citare la teoria come dire contrattualista che ne so di Kant di Rousseau di Hobbes e così via cioè che si sono uniti in un contratto e hanno deciso di come dire di elaborare un sistema che prima aveva uno zar e dopo aveva un Soviet supremo e infine ha un governo come dire centralista però nel contesto di una repubblica federale questa cosa non si accetta perché il territorio è troppo grande perché le risorse sono troppo enormi e perché il mondo oggi il mondo oggi il mondo con ottimo ha bisogno di nuove risorse e quindi si stanno creando appetiti folli gli appetiti ci sono state sempre in tutte le epoche però in questo momento lo squilibrio tra bisogni e risorse è uno squilibrio che si sta approfondendo e questo ci fa capire insomma perché da un po' di secoli ma io direi negli ultimi due in particolare questa Russia è stata sempre una grande spina nel fianco e quindi si è sempre pensato che alla fine la cosa migliore sarebbe quella appunto di toglierla di mezzo cioè far nascere sulle spoglie sulle rovine della Russia un mare di piccole realtà che poi possono essere meglio dominate possono essere come dire trattate come vengono trattate le realtà cioè se tutti accondiscenti alle nostre condizioni va bene se no facciamo come fece Atene con l'isola di Melo la democraticissima Atene ancora eravamo nel tempo della cosiddetta democrazia che praticamente quell'isola l'isola di Melo insomma la mise a ferro e fuoco e distrusse e uccise decine di migliaia di persone cioè l'intera città di Melo e così via cioè questo è il discorso loro vogliono un mondo così un mondo che si associa e che si coordina con quella che è appunto gli storici globali parlano appunto di l'economia mondo l'economia finanziaria mondo io non uso questo termine ne uso altri però voglio dire il concetto poi in linea generale assomiglia a quello l'occidente non è che il problema ce l'ha solo con la Russia non ce l'ha solo con la Russia perché la Russia come abbiamo detto costituisce un problema fondamentale lo possiamo porre al centro proprio perché è la realtà più grande è 6-7 volte più grande dell'India cioè 3-4 volte più grande dell'India 5 volte più o meno 4-5 volte più grande della Cina capiamo bene insomma cerchiamo di parlare di cose concrete non parliamo solo di dottrine e di ideologie e di scemenze appunto tutte queste sciocchezze qua lì c'è effettivamente un bacino di risorse che è talmente ampio in un mondo che ha bisogno di risorse che l'occidente che è stato sempre predatore è stato sempre diciamo così sopraffattore di popoli e in certo modo ci vuole mettere le mani insomma questo è quello che l'idea che aveva in mente per un periodo Yeltsin ha dimostrato cioè ha come dire quasi quasi accettato questa condizione della Russia poi la situazione è cambiata i governi sono cambiati è chiaro che dice no noi non ci stiamo cos'è noi stiamo bene così che cavolo volete noi stiamo bene così abbiamo le barbe ci sono parti etnie che hanno la barba ma anche che ne so anche fior di occidentale come Darwin aveva la barba ma non è che per questo lo disprezziamo perché hanno la barba cioè perché non aveva la barba ma voglio dire tanti filosofi pensatori scienziati no lì anche portare la barba già è una cosa che dà fastidio io ho visto le scemenze di uno che si chiamava che si chiama Serra se non ricordo male che fa la satira sul fatto che i russi alcune etnie russe non i russi di Mosca ma quelle asiati e questi ragazzi qua hanno 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 la barba ma è ridicolo cioè non si fanno queste cose cioè una persona seria una persona sensata non fa la ridicola cioè non mette in ridicolo popolazione solo perché hanno la barba perché la barba l'occidente ce l'ha ancora voglio dire ci sono moltissime persone che hanno la barba e quindi è chiaro che anche qui insomma noi abbiamo come dire il dente avvelenato bene l'occidente non non ha problemi solo con la Russia la Russia come detto abbiamo detto è al centro io ho sottolineato questo aspetto perché questo non lo dobbiamo dimenticare per capire la situazione di oggi ma ad esempio non accetta la Cina ecco ora qui può andare la prima immagine ed è l'immagine di un di un planisfero di un planisfero di oggi cioè contemporaneo che rappresenta appunto l'intera terra su un piano per questo planisfero ebbene noi in questo planisfero vediamo tutti i paesi e ora io vi spiego com'è un po' la situazione insomma anzi se viene messo tutto per esteso ecco è meglio in questo planisfero noi vediamo ecco qui si vede in una maniera abbastanza chiara cosa è la Russia cioè voi pensate a tutta l'Europa intera vedete lì c'è quella piccola parte centrale sopra l'Africa quel piccolo grumo lì di paesi quello là è l'Europa quella che oggi vuole fare la guerra a tutto e a tutti poi vedete cos'è la Russia cioè la Russia è quel territorio vedete che è molto più grande della Cina almeno 4-5 volte 6-7 volte più grande dell'India e almeno 4-5 volte più grande degli Stati Uniti è un territorio immenso dove ci sono risorse immense e quindi è chiaro che c'è questo questa volontà di sbarazzarsi della Russia però ma non c'è voglio dire come progetto c'è come idea di fondo come idea di base poi in che modo eccetera poi questa è una storia che si deve fare su altri piani ma intanto voglio dire è un problema che esiste è reale su quella Russia cioè non si può mettere becco non si può mettere mano perché ha i suoi legittimi proprietari sanciti ovviamente dalla storia poi possiamo dire che la storia non tutto quello che viene dalla storia è giusto ma ci mancherebbe però qui andremmo troppo per le lunghe e poi dovremmo dire quale paese poi è nel giusto perché tutte le storie cioè tutte le storie dei paesi sono storie di stragi di conquiste di anche di stermini di genocidi e così via quindi lasciamo perdere questo discorso ma diciamo che poi abbiamo altri paesi che ci fanno capire come il mondo sta cambiando perché l'Occidente non accetta i paesi che avanzano e quindi non accetta la Cina l'Occidente non accetta l'India non accetta l'Africa e non accetta l'America Latina e qui siamo diciamo così al grande disastro perché ora vedremo questi paesi cos'erano prima soprattutto non si accetta i nuovi contratti economici che legano queste realtà queste realtà ora in questa fase proprio da qualche anno a qua si stanno riorganizzando hanno detto basta noi non vogliamo né base militare né banche centrali né gente che ci che ci ruba i nostri diamanti le nostre miniere di oro le nostre miniere di argento vorrei che continuasse l'immagine del planisfera quindi non accetta queste cose quindi si sta organizzando in realtà cosa non si accetta e qui è importante guardare la Locantina guardate cosa non si accetta lo vedete cosa non si accetta praticamente è la rivolta di che cosa la rivolta dei sud del mondo lo vedete com'è chiaro togliendo l'Australia che è un pezzo un pezzo del mondo atlantico anglosassone nel sud più sud diciamo così molto più vicino gli altri all'Antartide poi abbiamo un sud insomma di vari continenti abbiamo l'America Latina che in questo momento si sta rivoltando cioè dire che ormai da 10 15 20 anni sta vivendo un momento ecco in questo caso possiamo parlare di una primavera autentica perché non c'è nessuno che sta imponendo queste primavere sono i paesi a un certo punto come il Brasile come l'Argentina ma come che ne so come il Cile ma anche come altri paesi insomma come insomma ce ne sono altri e che non riesco a vederle come Uruguay Paraguay insomma tutti questi paesi qua ormai non accettano i vecchi diktat statunitensi che dovevano comandare loro questo è il nostro giardino di casa una storia che risale al primo dell'ottocento la cosiddetta dottrina morro cioè praticamente di un presidente americano che si chiamava morro e che nel 1820 non lo so insomma siamo più o meno lì dice europei voi state non a casa perché all'America Latina ci dobbiamo pensare a noi è roba nostra ci vedete che grande insomma voleva mandare via i sopraffattori non era come il Bolivare che invece voleva mandare via tutti i sopraffattori loro gli americani c'è questo presidente morro e diceva dovete andare voi via perché ci dobbiamo noi dobbiamo essere noi i sopraffattori di quest'area è il nostro giardino di casa bene questa America Latina ormai non è nelle mani non è più il giardino di casa degli Stati Uniti e quindi anche del mondo indirettamente del mondo atlantico dell'intero mondo atlantico e questo è uno dei sud del mondo ma pensiamo l'Africa l'Africa non era una volta il sud del mondo o il posto al sole come veniva chiamato nei regimi coloniali e soprattutto come veniva chiamato nel regime coloniale italiano che era voglio dire anche una sinistra quella che viene chiamata cosiddetta la virgolettiamo sinistra storica cioè il posto al sole c'era il posto degli schiavi in cui l'Europa aveva il suo mondo il suo bacino di schiavi di schiavi e di risorse minerarie l'oro l'argento naturalmente le pietre preziosi i diamanti e così via ma anche l'uranio per dire insomma questo ovviamente poi assume un rilievo dopo la scoperta dell'energia atomica dell'energia nucleare e così via quindi abbiamo l'Africa quindi abbiamo l'America Latina abbiamo l'Africa fa parte anche essa del sud del mondo poi guardiamo ancora questa carta geografica e questa voglio dire questo flanisfero e ci accorgiamo che nel sud del mondo troviamo anche l'India nel sud del mondo troviamo anche l'Iran cioè dire lasciamo perdere questi paesi come sono come non sono se i sistemi politici sono accettabili o meno accettabili comunque in ogni caso in ogni caso sono tutta una serie di sistemi che si stanno rivoltando a chi si stanno rivoltando ai padroni ai gendarmi del mondo che sono appunto gli Stati Uniti e l'Europa Atlantica ma al di là dell'Iran che può creare può fare storcere giustamente un po' di naso poi abbiamo un grande paese come l'India che fa un miliardo e duecento milioni di abitanti anche essa proprio nel sud e poi abbiamo la Cina quindi lo vedete che al di là di tutte le chiacchiere che si fanno cioè poi in realtà noi possiamo dire che è il sud del mondo che finalmente come si voleva negli anni settanta del novecento e non si è riuscito a fare negli anni ottanta perché poi le situazioni erano di un certo tipo ora queste realtà si stanno rivoltando e non solo si stanno rivoltando carissimi ascoltatori carissimi amici stanno vincendo stanno vincendo cioè praticamente non è che la Russia come dire gli Stati Uniti il sistema atlantico sta perdendo perché c'è la Russia che va avanti anzi loro ti dicono la Russia fa 150 milioni di abitanti e poi è poca cosa rispetto ma lì c'è appunto un sistema geoterritoriale ma poi a livello politico a livello sociale e a livello geopolitico poi c'è questo sud del mondo immenso che forma un'area anche geoterritoriale immensa che si sta si sta rivoltando e qui noi in questo discorso troviamo chiaramente la chiave di lettura per capire cosa sta avvenendo nel contesto chiamiamolo così in maniera in maniera molto riduttiva nel contesto russo-ucraino che in realtà non è un contesto russo-ucraino in realtà è un contesto di confronto tra sistemi tra sistemi e più o meno insomma questo ormai lo abbiamo acquisito quindi non si accetta la realtà del sud del mondo che si sta rivoltando però ora qui qualcuno qualche buon tempone potrebbe dire ma si sta rivoltando quindi noi possiamo accettare rivolte noi non siamo per l'ordine costituito no no carissimi state calmi perché si stanno rivoltando pacificamente non stanno facendo guerra a nessuno semplicemente si sono trovati nelle condizioni per esprimere una loro indipendenza vera cosa che l'Europa non è riuscita a fare nei confronti appunto del sistema del pentagono del sistema statunitense loro ci sono riusciti e quindi questi paesi hanno ormai la possibilità di autogestirsi senza fare rivolte armate senza fare colpi di stato sono semplicemente paesi che hanno capito ma non è che lo hanno capito ora non avevano i mezzi prima perché anche essi erano oppresse quindi erano abbastanza schiavizzate ma hanno capito che il valore più grande è la libertà e quindi non vogliono più e qui insomma io faccio una piccola postilla a me mi fa ridere che ora se presentano delle liste per rubare voti poi a una certa parte io vi dico non votatele perché non sono persone che rappresentano che dicono noi non è vero che non siamo contro la Nato noi siamo a favore della Nato però la Nato si deve difendere ma cari signori e cari ragazzi studiate la storia la Nato da chi si deve difendere chi oggi può minacciare voglio dire la Nato chi può invadere gli Stati Uniti d'America o invadere l'Inghilterra o l'Italia cioè è folia quindi voi praticamente state diciamo così mistificando le cose volete fare la solita lista per poi entrare lì e poi si cambia tutto come è avvenuto appunto negli ultimi 20-30 anni cioè vai lì che fai il rivoluzionario e poi a un certo punto dici noi non volevamo non volevamo dire questo però poi in realtà siamo sì mettiamo la firma anche al mandare diciamo così le armi all'Ucraina perché questo è quello che è successo in tutti questi anni ora ci stanno riprovando perché oggi la realtà è questi paesi questo sud del mondo che voi guardate in questo planisfero vi dimostrano che è possibile porsi al di là delle linee di questo sistema imperiale sistema imperialistico e sistema militare perché non si può dire no alla Nato spiegatemi perché cioè ancora siamo così ottusi da pensare che siccome 80 anni fa c'è stata una guerra fatta dal fascismo e questa guerra poi ha avuto quell'esito là in cui ovviamente oltretutto c'è stata anche una Russia che ha dato un numero di morte almeno 50 volte superiore a quello degli Stati Uniti eccetera e qui per questo gli Stati Uniti devono governare il mondo e devono governare anche me ma voi ve lo sognate cioè voi per essere credibili dovete dire noi non vogliamo la guerra in Ucraina ovviamente non vogliamo quello che sta succedendo la carneficina lo sterminio che sta avvenendo a Gaza però noi non vogliamo gli strumenti con cui queste cose si stanno attuando cioè praticamente quello che sta avvenendo avviene perché ci sono proprio queste strutture che foraggiano le guerre che fanno le cose magari non direttamente ma indirettamente ma le fanno quindi tu sei credibile e sei fai parte del pacifismo più maturo e quello diciamo così realista cioè a cui mi ispiro io il realismo che noi cari amici sappiamo che esiste un pacifismo che ha fatto la storia no i pacifinti i pacifisti gli hanno fatto la storia i pacifisti che in alcuni paesi importanti come l'India come l'Europa in certe fasi come voglio dire i pacifisti che hanno disarmato moralmente l'America che ammazzava praticamente impunemente le popolazioni del Vietnam c'è un pacifismo realista non idealista io non sono per niente idealista qual'idealismo? si deve essere realisti un pacifismo a cui noi ci dobbiamo ispirare ed è quello che appunto ha fatto ha fatto la storia allora se tu Santoro o chi altro quel di Battista sono tutti rivoluzionari tutti se volete fare questo voi nel vostro programma dovete mettere noi rifiutiamo qualsiasi struttura militare che abbia diciamo così licenza di uccidere che non esercite una funzione aggressiva come quella che per 70 anni ha esercitato la Nato quindi non puoi dire siamo per la Nato però siamo pacifisti è il momento in cui questo non è un insegnamento che ci viene dal vecchio partito comunista ma è un un insegnamento che ci viene dal sud del mondo che non ne vuole sapere di questa alleanza qua e quindi se noi siamo liberi se facciamo parte dell'Europa libera come si dice insomma abusivamente noi dovremmo avere questa capacità di dirlo senza qui tutte queste sciocchezze qua finiamolo con queste cose siate superiore a queste cose se vi serve un po' di storia studiatela ma siate superiore cioè praticamente oggi dall'America Latina e non dal vecchio partito comunista legato all'Unione Sovietica non c'entra dall'America Latina oggi dall'Africa oggi dall'India oggi dalla Cina che erano tutti paesi asserviti nel sud del mondo compresa India e Cina completamente asservita un mondo che ha vissuto pagine immense che si potrebbero anche valutare nel senso di genocidio perché io lo so avendo letto un po' di storia so cosa succedeva ad esempio nell'India prima di Gandhi prima di quella esperienza oppure cosa succedeva in Cina o cosa succedeva in Africa quindi da questi paesi che si sono liberati di quella oppressione noi abbiamo un insegnamento totale che non viene raccolto da nessuno manco da quelli che qui oggi passano e si fanno vorrebbero farsi passare per pacifisti ma pacifisti di che cosa se tu non dici chiaramente che la Nato si è manifestata come un organo diciamo così militare di grande aggressività che costituisce un pericolo a livello mondiale quindi noi vogliamo essere completamente fuori da queste cose non c'entra con il raccordarsi con le parole d'ordine degli anni 50 e degli anni 60 c'entra con quello che il mondo il sud del mondo ti sta comunicando la lezione che ti sta dando che si può vivere al di là di queste grande strutture militare che hanno prodotto stragi stragi e ancora stragi e le stanno producendo ancora oggi e quindi la lezione dell'India e la lezione ovviamente della Cina anch'essa oppressa a lungo la Cina è stata ovviamente asservita all'Inghilterra cioè dire ci sono state rivoluzioni e rivoluzioni per arrivare poi diciamo così a liberarsi insomma da quella oppressione ma pensiamo all'India addirittura data in come dire incomodato incomodato tra virgolette ovviamente alla compagnia delle Indie per poi dicere è una cosa troppo importante ce la prendiamo direttamente e viene asservita praticamente al Commonwealth cioè al regno al regno britannico questa è la realtà questi paesi oggi ci stanno dicendo che si può essere liberi già per dire che è anche un piccolo paese da niente come che ne so Malta la Repubblica di Malta negli anni settanta ai tempi di Dominique Mintoff cioè lì a un certo punto praticamente buttò fuori gli inglesi ma non li buttò fuori con una rivoluzione ma con una forte pressione a livello popolare una forte pressione ovviamente a livello a livello politico e la buttò fuori anche militarmente cioè le basi inglesi che erano lì nell'isola di Malta sono state smantellate e sono dovute andare via cioè questo cosa ci dice voi potete prendere in giro chi non conosce la storia ma che impara a leggerla e io consiglio a tutti di fare questo cioè capisce che sono tutte sciocchezze che sono tutte delle grandi falsificazioni l'Italia e i paesi dell'Europa cosiddetta atlantica se vogliono possono benissimo decidere cosa gli deve fare gli possono fare gli Stati Uniti d'America mandano una CIA ad ammazzare un po' di persone a fare un po' di strage quella e quell'altra e noi dobbiamo accettare questo caro caro Santoro quindi siete completamente come dire inattendibili non vi si può votare per questo perché già c'è l'inganno voi dovete dire altre cose dovete dire e questi paesi questo sud del mondo è in questa direzione o vi collegate con questo sud del mondo e mi meraviglia che uno che dice di conoscere il sud del mondo come quel di Battista queste cose non le dice cioè il sud del mondo oggi dice che si deve fare è un grande passo in avanti che si faccia a meno come dire di una specie di protettorato politico anche militare ovviamente del mondo occidentale quindi di questa grande piovra che è costituita che è costituita dal dal sistema anglosassone statunitense in particolare quindi alla base alla base di tutto c'è insomma questa paura che ormai l'occidente ha nei confronti di questo sud del mondo che si sta organizzando e ormai non sa come uscirsene e l'abbiamo visto con queste rivolte che ci sono state in Africa rivolte a base popolare militari non scandalizzatevi amici quando vedete che diciamo sono emerse anche figure militari perché non dobbiamo dimenticare che a volte i militari possono diventano in determinate situazioni anche espressione della volontà popolare basta pensare all'Europa ad esempio al Portogallo e al Portogallo della grande rivoluzione democratica la fine del sistema di Caetano prima di Salazar e poi dopo Caetano che fascismo per il proprio fascismo che cade con una insurrezione militare che però si mette alla testa del popolo per fare cosa? per avere il senso del potere e restare 30-50 anni? no perché nel giro di un anno un anno e mezzo praticamente lì è nata una democrazia come tutte le altre che è la democrazia portoghese quindi tutto va valutato secondo poi la realtà la realtà delle cose ma vedete amici ora qui andiamo nella parte più interessante qui ci sono anche altre immagini possiamo anche per adesso toglierla questa questa questo planisfera dobbiamo ritornare alla Russia perché alla luce di questo qui si sono state tracciate tutta una serie di cose alcune sono paradigmi cioè dire cose che ovviamente fanno parte del mio percorso di studi ma che io metto a disposizione del mondo civile dell'Italia civile e così via ce lo devo fare e penso che sia mio dovere rimane quello che possiamo chiamare un geoparadosso un paradosso praticamente geostorico ed è che la Russia è come dire la parte più esposta agli attacchi dell'occidente perché anche a livello fisico se noi pensiamo bene è un paradosso cioè se noi che ne so pensiamo che all'India o alla Cina sono delle realtà è appunto il sud del mondo che è là è localizzato là è ben circoscritto là e già ai tempi era circoscritto dalla grande muraglia che gli imperatori hanno costruito al nord per difendersi dagli attacchi possibili della Mongolia quelle che loro chiamavano i barbari poi i mongoli sono in realtà hanno costituito una una dinastia importante la dinastia Yuan che ha dimostrato di essere anche capace di cose che ha continuato poi le grandi opere della dinastia Song questo per dirvi che è in realtà lì rinserrata lì hanno fatto ora è chiaro che i confini i confini della Cina non sono quelle della grande muraglia questo è ovvio è cresciuta ci sono state le guerre le guerre anche tra Cina e Giappone e così via voglio dire è una storia molto complessa però voglio dire la Cina è là l'India la stessa cosa o il Pakistan oppure l'Iran sono dei paesi che sono là e già per dire fanno paura e quindi il sistema mondo il sistema come dire l'attuale gendarme del mondo crea tutta una serie di situazioni di postazione di avamposti perché ha paura di questi sistemi localizzati ebbene se voi se ritorniamo al planisfero se ritorniamo al planisfero vi faccio notare una cosa importante faccio importante faccio notare ecco vi faccio notare che la Russia e tutta quella parte gialla in alto all'Asia ebbene che confina e dentro l'Europa quindi è come dire un sistema geoterritoriale che poi sfronda verso l'Europa e che confina con gli Stati Uniti cioè dire si trova mettiamo supponiamo in caso di una guerra atomica può attaccare tranquillamente l'Europa occidentale e gli Stati Uniti perché si trova lì cioè confina con l'Alaska è attaccata quasi all'Alaska quindi è chiaro che è una realtà con cui tu devi fare i conti particolarmente se poi ci metto ovviamente che ha l'armamento atomico più potente al mondo insieme a quello americano cioè si capisce perché la Russia in questo contesto in cui si ha questa paura verso questo sud resistenziale prima resistenziale e ora che si è rivoltato pacificamente a fronte di questo la Russia è quella che fa più timore perché la Russia a parte le grandi risorse che possiede a parte tutto una cosa completamente anomala ma è anche evidente che è parte dell'Europa e in un certo senso è parte anche dell'oceano pacifico e quindi del mondo atlantico cioè del mondo voglio dire statunitense bene la Russia è un mondo lontano mille miglia voglio dire come tradizione dall'occidente tuttavia confina con l'Europa perché è la stessa Europa non ci sono dubbi che c'è una parte della Russia all'interno degli urologi che viene considerata Europa ci sono paesi che ora fanno parte dell'Europa e prima facevano parte della Russia e che ne so nel Baltico lì tutti quei paesi e quei paesini là cioè vabbè in ogni caso insomma e poi voglio dire insomma anche l'Ucraina l'Ucraina oggi fa parte dell'Europa nel senso potenzialmente no no fa parte geograficamente dell'Europa ma quanto prima potrebbe fare parte dell'Europa unita quindi del sistema Europa perché questa è l'intenzione che hanno e quindi noi ci accorgiamo che la Russia dal lato europeo è Europa così come dal lato del Pacifico è il confinante è praticamente il competitore pericoloso che gli Stati Uniti hanno in quell'area cioè l'area che è statunitense che fa parte cioè l'Alaska è un mondo ghiacciato ma fa parte degli Stati Uniti c'è poco da fare insomma è integrata negli Stati Uniti quindi per questo la Russia fa più paura degli altri e tanto più fa più paura oggi perché di questo sud del mondo non è il sud in questo sud del mondo c'è la Russia e l'elemento che potrebbe essere un po' il collante cioè il c'è il modello che potrebbe portare anche diciamo così queste alleanze economiche che stanno nascendo si parla del BRIC ma non è che sono solo il BRIC cioè le cose non bisogna banalizzarle sono tante cose che vanno crescendo ebbene la Russia è quella che difatti la Russia non è Asia e non è Europa ma è l'Eurasia poi l'Eurasia poi geograficamente è tutto l'Occidente ovviamente sul piano territoriale ma in ogni caso esiste una barriera se non altro politica e geopolitica in cui la Russia fa parte dell'una e fa parte dell'altra da questo punto di vista ci accorgiamo che quello che sta succedendo oggi non è una cosa nuova cioè in realtà per capire che qui non c'entra tutto queste sciocchezze qua ovviamente si rendono ridicole perché non capiscono che qui ci sono prese di posizione di intellettuali di persone che hanno spessore di persone che hanno il senso dell'autonomia cioè questo veramente sono cose proprio da bar dello stadio e il fatto che queste cose da bar dello stadio muovono servizi segreti muovono cancellerie muovono governi ci fa capire dello stato in cui si è ridotto ormai l'Occidente cioè la Russia in realtà è una fenomenologia lontana e questo scontro tra Occidente e Russia viene da lontano non solo perché ci sono stati voglio dire degli attacchi diretti dell'Occidente alla Russia pensiamo alla Svezia pensiamo alla Germania pensiamo che ne so alla Francia napoleonica cioè prima poi dopo la Germania nazista e cose via ma perché voglio dire i tentativi di attacco ci sono stati sempre cioè quelle poi sono attacchi che sono finite come sono finiti a catastrofe però in realtà l'intenzione dell'Europa verso la Russia proprio perché la Russia ha adottato questa tradizione cioè questo modo di percorrere la modernità come innesto e come dire di un sistema tradizionale geoterritoriale è larghissimo cioè tutti i sistemi si sono sfasciati quello antico romano si è sfasciato quello di Attila ad esempio l'impero di Attila si è sfasciato l'impero di Gensi Kennedy si è sfasciato ma tutti gli imperi europei si sono tutti sfasciati invece quello lì rimane cioè questa tradizione geo la possiamo chiamare geoimperiale rimane quindi questo è già il primo il primo motivo insomma per cui quindi rimane la Russia rimane un paradosso cioè di un paradosso che viene da lontano come dicevo prima e ora qui andiamo alle immagini ma non adesso aspettiamo un attimo uno scontro lungo che è già in cammina ad esempio nel sedicesimo secolo nel cinquecento ai tempi appunto come dicevo prima di Ivan IV Ivan il terribile chiamato il terribile ma non chiamato il terribile solo in Europa perché in realtà l'Europa è equivocato sul termine insomma vabbè ma queste sono cose che a noi non interessano quello è stato semplicemente il primo monarca di tutte le Russia quindi il Cesare diciamo così di una grande estensione territoriale nel contesto appunto geoimperiale e quindi praticamente ha a che fare con tutta una serie una moltitudine di etnie ebbene per una sorta di miracolo naturalmente per le cancellerie europee e per una sorta di come dire di macchinazione diabolica diciamo così e questa realtà è rimasta e cosa ci vuoi dire sono diventate delle repubbliche che si autogovernano e che hanno demantato la centralità di alcuni affari di stato a un potere centrale che è quello di Mosca gli puoi dire qualcosa? cioè gli puoi dire qualcosa? poi è qualcosa di molto analogo a quello che è successo con il Regno Unito che ancora ha i suoi possedimenti qui e là eccetera cioè lì sono andati a conquistare le hanno fatto decine di migliaia di chilometri per conquistarle lì invece era tutto il mondo ci sono state anche guerre guerre con la Cina guerre con il Giappone nel 1904 ad esempio la Russia era in guerra con il Giappone cioè quindi ma è chiaro che il contesto lo possiamo chiamare geoimperiale ma un contesto che prima è diventato un contesto poi socialista il socialismo reale e poi è diventato un contesto di repubbliche che hanno un ordinamento hanno delle leggi hanno delle regole e hanno delle funzioni con cui dovete fare i conti cari europei e qui ovviamente non sto parlando di Putin perché parlo della Russia anche di un secolo fa e di un secolo e mezzo fa e così via bene abbiamo quindi questa situazione nasce dal mito insomma questo mito della terza Roma a cui noi possiamo far derivare perché lì poi ovviamente mito della terza Roma e ovviamente poi c'è la Turchia poi c'è l'impero ottomano ci sono tutta una serie di situazioni che non accettano molto questo mito della terza Roma e poi anche gli europei che hanno questo carattere predatorio che devono rubacchiare a tutti devono ammazzare devono scannare le persone in tutti i posti del mondo e così via quindi lì incomincia quello che possiamo chiamare il pregiudizio antirusso o per usare un termine diciamo forse più pertinente la russofobia cioè dire proprio la paura della Russia voi pensate cari amici che già nel 1689 quando viene integrata la Russia l'immensa Siberia che sprofonda verso l'oceano pacifico noi abbiamo praticamente un paese diciamo così geoimperiale che dalla parte europea cioè arriva appunto fino al pacifico cioè fino a un oceano che è distante di fatto ci sono 6 7 8 o forse 10 fusi orari da una parte della Russia all'altra e quindi anche questo è qualcosa che come dire i carnefici e i gendarmi della terra non possono accettare cioè rimane per questo diciamo così il punto d'Olenzi il punto in cui l'Occidente non può dirsi assolutamente soddisfatto e allora noi dobbiamo capire insomma una cosa importante ora io vi dico cioè vi dico questo le cose che vi faccio vedere forse voi così inavvertitamente le avete viste qua e là qui però vengono messe in una in una collocazione cronologica e che per la prima volta spiegano diciamo così all'opinione pubblica italiana cioè cos'è la russofobia cos'è il pregiudizio antirusso e cos'è l'isterismo antirusso cioè dire da dove viene non c'entra Putin è una cosa completamente diversa inutile che ci dicano quello e quell'altro cioè qui il problema è sostanziale quindi possiamo incominciare a mettere la prima la seconda immagine ed allargarla se possibile se è possibile ecco questa qua e questa è una immagine e ora io qui sono un tantino lontano e non riesco a leggerla comunque in ogni caso siamo nel 1870 nel 1870 quindi significa circa 15 anni dopo all'incirca 14 anni dopo la fine della guerra di Crimea perché già durante la guerra di Crimea esisteva questa diciamo questa russofobia ma vedete qui abbiamo una rappresentazione allegorica dell'Europa del 1870 1880 ovviamente ci ricorda la guerra franco-prussiana quindi ma questa è una guerra europea quindi qui non c'entra però vedete com'è rappresentata la Russia vi accorgete quando si parla gli orchi l'orco di Putin quando ci viene spiegato che il popolo russo è fatto di orchi questo praticamente questa figura diciamo così antropomorfica però alterata che è nel territorio che appartiene alla Russia è la rappresentazione che si aveva di questo popolo e soprattutto la rappresentazione che si aveva del potere russo cioè dire ora è chiaro che qui va fatta una precisazione siamo nel periodo in cui l'Inghilterra cioè la Gran Bretagna aveva possedimenti aveva schiavizzato mezzo mondo cioè siamo nel 1870 ed è rappresentata come se non vedo male ma io qui necessariamente ecco è rappresentata come una vecchia insomma una vecchia signora insomma così con la farfalla in testa insomma ecco qualcosa del genere lì invece noi abbiamo l'immagine vera e propria di un orco di un animale stranissimo soprattutto rapace questa era l'immagine che circolava ad esempio in Francia perché questa carta è del 1870 è francese la Francia ad esempio la Spagna è rappresentata come una signora in abito molto elegante l'Italia era il periodo in cui aveva appena compiuto diciamo la propria fase unitaria cioè nel 1870 quindi è rappresentata come una specie di di rivoluzionario insomma di Garibaldino comunque un repubblicano probabilmente non lo so però in ogni caso è una figura che appartiene un po' al ethos al costume di allora invece la Russia è un mostro è un mostro cioè già allora era un mostro allora l'Europa aveva già attaccato tutto il mondo cioè ognuno aveva le sue tranne l'Italia ma tutto il resto cioè gran parte già avevano le loro c'è la Spagna la Francia ovviamente l'Inghilterra il Regno Unito e altri paesi però la Russia cioè nella rappresentazione degli europei era il mostro vediamo la la tabella la numero 3 ad esempio qui noi abbiamo di nuovo la carta dell'Europa europea anche questa è una carta che probabilmente è del 1870 forse del 1878 qui purtroppo non leggo non leggo le didascalie sì in ogni caso noi abbiamo tutti i paesi ad esempio la Germania cioè ad esempio l'Inghilterra la Gran Bretagna è rappresentata con una figura umana di una specie di lord con il cilindro in testa insomma quindi una figura per bene e invece la Russia è rappresentata come un orso che sta aggredendo l'Occidente da notare che in nessun momento di quella storia della Russia stiamo parlando già una storia di tre secoli la Russia aveva mai attaccato l'Occidente il Regno Unito aveva la Gran Bretagna aveva attaccato grande parte del mondo lo stesso la Spagna lo stesso la Francia e altri però la potenza aggressiva nelle rappresentazioni era costituita proprio dalla Russia andiamo alla quarta andiamo alla quarta ecco qua questa è ancora più bella e non so qui siamo probabilmente verso il 1878 all'incirca bene ancora una volta è una carta allegorica dell'Europa questa qui viene dall'Italia quindi nel 78 l'Italia è già nelle mani del è già governata dalla cosiddetta sinistra storica perché la destra chiude la sua fase diciamo così nel se non ricordo male nel 76 ebbene qui noi abbiamo abbiamo proprio la Russia rappresentata come si rappresenta esattamente oggi Putin cioè come un criminale cioè uno con la faccia così effettivamente da una possibile corte di giustizia europea poteva scattare anche un mandato di cattura cioè praticamente qui la Russia cioè significa il potere il governo russo lo zar russo è rappresentato con un coltellaccio in mano un coltellaccio impevuto di sangue e con una faccia bruttissima cioè con i denti di grignate cioè abbastanza visibili e di forma direi abbastanza strana cioè tutti i denti che mi sembrano tutti canini cioè quindi anche qui noi abbiamo una deformazione pazzesca se noi consideriamo che la Russia poi faceva tutto sommato era un paese diverso perché faceva parte di quell'innesto faceva parte di quella tradizione l'Europa era il paese diciamo così era l'aria che cresceva e soprattutto ovviamente la parte britannica che passava dalla prima rivoluzione avvenuta nel fine settecento primo ottocento e lì poi c'è l'inizio della macchina a vapore poi insomma ci sono tutta una serie di ripercussioni importanti anche sotto il profilo tecnologico e poi la seconda quella che viene chiamata una seconda rivoluzione industriale che interessa anche altre aree del continente però sempre ancora soprattutto inglese perché voglio dire l'Inghilterra è al capo del mondo aveva il ruolo che oggi hanno gli Stati Uniti insomma qualcosa del genere e quindi era la parte ricca invece la Russia siccome era per propria scelta quella parte propria scelta e anche per condizioni oggettive quella parte che costituiva appunto un innesto cioè di una determinata tradizione restava un mondo sul piano economico un po' arretrato ma bisogna stare attenti perché in realtà c'erano situazioni della Russia che non erano per niente arretrate delle aree importanti della Russia come ad esempio quella di San Pietroburgo che era un'area molto avanzata anche sotto il profilo costruttivo sotto il profilo architettonico non dobbiamo dimenticare che la Russia le costruzioni della Russia più importanti cioè le città più importanti e più eminenti della Russia vengono fatte nell'epoca di Pietro il Grande e di Caterina seconda di Russia quindi prima di Caterina poi di Pietro il Grande quindi noi abbiamo come dire insomma anche una Russia che partecipa diciamo alle cose dell'Europa noi sappiamo ad esempio che Caterina di Russia aveva rapporti con l'illuminismo francese rapporti notevolissimi e quindi molti contatti e noi sappiamo che anche Pietro Pietro cosiddetto il Grande cioè lui di notte si recava nei paesi europei in incognito proprio per cercare di capire cos'era questa ricchezza e poi alla fine ne uscì abbastanza ispirato da questa ricchezza e da quei modelli quindi quando si parla di una Russia arretrata bisogna sempre stare attenti perché poi ci sono fasi poi non parliamo a livello di letteratura e a livello di letteratura insomma soprattutto nell'Ottocento cioè noi abbiamo l'Espoa la grande letteratura europea per eccellenza dell'Ottocento è quella russa e tuttavia veniva rappresentato con questa faccia brutta e con questo coltellaccio in mano e a fronte di un'Europa invece che era tutta amena tutta tranquilla cioè mentre la realtà era tutta al contrario perché questa Europa praticamente sterminava popoli già l'aveva fatto in passato ovviamente ma continuava a farlo in America nell'America del Sud continuava a farlo in Africa in Asia e così via andiamo all'altra immagine e poi il finale dovete vedere perché il finale questa ad esempio è una carta del 1878 in cui abbiamo ancora questa Europa fatta tutta di belle persone di persone che amene insomma c'è qualche militare ma ci sono persone ad esempio l'Italia in cui c'è una fanciulla adagiata su un terreno insomma tutte queste cose qua e invece la Russia nel 1878 viene rappresentata come una piovra quindi è chiaro che siamo nel pieno ormai del pregiudizio antirusso e della russofobia c'è di una vera e propria c'è una una piovra che attacca con i suoi tentacoli c'è parte dell'Europa qua addirittura arriva nei Balcani ma è chiaro che è tutta rivolta verso l'Europa quindi questo è l'inizio poi è chiaro che può riuscire nell'invenzione anche del disegnatore del committente può riuscire ad attaccare tutto il resto dell'Europa anche qui noi sappiamo che la Russia non aveva mai attaccato l'Europa però veniva rappresentata in questo modo andiamo alla prossima alla prossima immagine no io questa chiaramente insomma non la farei non la metterei in questa cosa qua perché vabbè questa è un'immagine abbastanza amena tutto sommato rispetto agli altri andiamo avanti ecco qua questa è una carta geografica se non sbaglio se non sbaglio ma comunque di fine ottocento insomma siamo già alla fine ottocento no no ma siamo tra la fine ottocento e l'inizio del novecento perché ormai abbiamo il nuovo zar che è Nicola II cioè è morto Nicola I noi abbiamo Alessandro I che era lo zar che difese la Russia da Napoleone Bonaparte poi abbiamo Nicola I e poi abbiamo Nicola II quindi siamo tra la fine gli ultimi anni dell'ottocento e i primi novecento in cui vediamo un'immagine molto più tecnologica il mondo ha attraversato la seconda rivoluzione industriale cioè abbiamo l'elettricità abbiamo ormai il vapore che viene utilizzato molto bene in tante ma ancora con l'elettricità e lì abbiamo anche la macchina cioè la macchina l'automobile l'invenzione dell'automobile e quindi del motore a scoppio e di fatto se abbiamo questa macchina noi vediamo che sopra questa macchina questo cilindro qua abbiamo del fumo quindi questo è un cilindro a motore a scoppio ebbene negli altri paesi abbiamo una serie di situazioni di cagnolini insomma di cose di persone placidamente adagiate e cose via ma molti cagnolini sto vedendo cani anche un po' così un po' che guardano in cagnesco per scusate l'intreccio di parole ebbene invece la Russia viene rappresentata con lo zar su questo cilindro che praticamente sta spianando l'Europa non cioè non è ancora arrivato diciamo a lambire l'Europa però praticamente l'immagine che ti dà è quella di un paese che sta attendando all'Europa che di lì a poco praticamente impaderà l'Europa questa è questa immagine quindi siamo sempre là siamo sempre alla russofobia andiamo alla prossima immagine ecco questa qua è un'immagine più recente questa qua è un'immagine del 1930 e no del 1936 cosa vi ricorda poi il 36 sicuramente vi ricorda il periodo della guerra spagnola cioè della guerra civile in Spagna ricorda il periodo fascista del fascismo in Italia e del nazismo che ormai è un regime di guerra già nel 36 ebbene qual è il grande nemico ancora del 1936 in Europa la Russia rappresentata come una piovra ma se ci fate caso non è una piovra che mette i suoi tentacoli nella nell'Europa orientale ma è ormai diciamo una piovra che pone che lancia i suoi tentacoli anche nell'Europa occidentale e il riferimento è chiaro il riferimento è quello appunto siamo negli anni dello stalinismo e quindi i collegamenti che ci sono tra con la terza internazionale tra il Comintern tra la Russia l'Unione Sovietica e la Spagna e la Francia la Francia anche in quel periodo c'è una situazione estremamente complessa il periodo del fronte popolare insomma è tutta una storia molto complessa e poi ci sono parti in cui questi questi tentacoli sono stati spezzati che sono quello dell'Inghilterra l'Inghilterra evidentemente viene considerato un paese tranquillo più tranquillo se non altro e l'Alemagna perché evidentemente già qui c'è una dichiarazione chiara di intenti a livello politico così anche in Italia che è stata spezzata però noi abbiamo questi tentacoli che già si estendono in Spagna e in Francia nel 1936 andiamo avanti stiamo finendo con l'altra questa è l'immagine del ancora qua siamo io credo perché non riesco a vedere la data ma probabilmente siamo nel periodo del dopoguerra cioè dopo la la fine della seconda guerra mondiale quando si apre questo contenzioso tra il mondo occidentale tra l'Europa centro-occidentale e l'Europa centro-orientale praticamente abbiamo questa rappresentazione della Russia tutta dipinta di rosso il rosso della della bandiera ovviamente comunista cioè dell'Unione Sovietica e poi anche lì noi abbiamo i tentacoli che in un certo senso non arrivano più alla Spagna perché qui abbiamo una situazione diversa in cui c'è un'area che viene infeudata diciamo così tra virgolette all'Unione Sovietica che è tutta quella parte dell'Europa orientale che noi conosciamo tra cui c'era anche l'Ucraina c'era la Polonia la secolo-Slovacchia unita allora la Germania e quindi è una rappresentazione insomma che va in questa direzione sempre una piovra andiamo all'ultima fotografia e qui c'è si scioglie tutto il mistero questa è una fotografia sempre occidentale della Russia del 2008 l'Europa occidentale dell'Europa no anzi l'Europa cioè praticamente la Russia con alcuni paesi dell'Europa orientale e noi abbiamo sempre la piovra e questa piovra ovviamente ha la faccia di Putin cioè questo ci fa capire come questi signori questi ambienti queste persone questi giornali o meglio giornalacce a questo punto ci stanno prendendo per i fondelli dicendo che il problema ora che è Putin che è in realtà c'era tutta una rampogna in realtà a questo punto possiamo togliere l'immagine possiamo togliere in realtà esiste una situazione di scontro che già è presente molto prima che si abbiasse come dire il conflitto in Ucraina nel 2014 non nel 2022 perché poi lì è chiaro che ci sono fasi diverse che vengono dimenticate ma qui questo è del 2008 e riprende il cliché riprende il cliché che c'era stato appunto nell'ottocento che c'era stato nel primo novecento che c'era stato durante la guerra fredda e quindi si ribadisce una cosa cioè questo ci fa capire che cosa che ci stanno infinocchiando ora io dico cari spettatori cari amici non vi fate infinocchiare se voi siete delle persone intelligenti cioè queste immagini vi fanno capire che non è vero che quello che si sta facendo si sta facendo perché quello e che l'altro è perché già questa intenzione è maturata per secoli e poi negli ultimi decenni in una maniera in una maniera abbastanza abbastanza decisiva quindi è chiaro che ci sono state dei tentativi insomma di creare insomma diciamo una situazione interlocutoria con la Russia la troviamo nella Santa Alleanza del primo ottocento antinapoleonica che integrò la Russia e tuttavia fu una parentesi perché poi scoppiò appunto quella russofobia e quindi era tutta un'altra situazione lo troviamo ad esempio nel 1907 1907 quando nasce la triplice intesa che comprende la Francia l'Inghilterra e la Russia quindi ci sono stati dei tentativi così come nel periodo più recente è avvenuto con l'esperimento di Boris Yersin anche qui noi abbiamo una Russia che quasi si sottomette all'Occidente anzi si sottomette più di quando non fosse avvenuto in quelle cose precedenti che vedevano una Russia abbastanza altera partecipare alle alleanze qui invece abbiamo una Russia abbastanza ripiegata sull'Occidente quindi noi cosa ci stiamo accorgendo ci stiamo accorgendo che la storia non ce la vogliono raccontare in modo giusto che tra l'Occidente e la Russia c'è stato sempre quello che una volta si chiamava il grande gioco il grande gioco che ad esempio nell'Ottocento era quello che passava quei conflitti che passavano tra l'Inghilterra e appunto l'impero degli zar e poi la guerra di Crimea è importantissima una cosa abbastanza importante e poi il grande gioco che noi ritroviamo ancora anche se non si chiama più il grande gioco ma lo ritroviamo pari pari ancora durante la guerra fredda non lo chiamiamo più il grande gioco che divideva appunto l'Inghilterra soprattutto e la Russia nel dominio di paesi soprattutto asiatici ma la guerra fredda che ha insomma diciamo così retto la situazione geopolitica a livello mondiale per per molti per almeno non lo so 40 anni insomma dal 43 89 45 anni insomma e così via ebbene quello che ho detto non è non è una cosa da poco perché in realtà spiega quello che sta accadendo oggi oggi è il grande gioco c'è questa grande aggressività nei confronti della Russia che deve necessariamente portare a un conflitto ed è quello che sta avvenendo la situazione oggi però è catastrofica è catastrofica perché abbiamo un sistema formato da tutta una serie di poteri di sottosistemi cioè di poteri governativi di poteri di stato che non reggono più il senso della realtà e quindi in questo momento cioè nel periodo più difficile nel periodo più pericoloso eccetera eccetera cioè noi ci troviamo con i gruppi dirigenti con le politiche dirigenti e con le politiche strategiche che riguardano anche la guerra e più pericolose che ci siano mai state diciamo nella nostra età contemporanea